E' domenica, non preoccupatevi, Giorgio Rett oggi è un po' come il mondo Vianello in casa Vianello, no facciamo casa Rett. Io sono venuto con lui perché ci siamo resi conto che molto spesso, per fortuna la maggioranza sono piccoli, però la famosa rotonda Tre Noci e non solo è il protagonista di incidenti dove finiscono le biciclette, un po' perché non stanno attenti, un po' però perché effettivamente sia un po' calenti, quella è un'area di competenza di FWG strade però anche il Comune potrebbe fare la sua Rett, se è stato tanti anni riusciamo a trovare una soluzione? Dunque, il bivio Tre Noci nel tempo, penso che non solo nel Fiduomizia Giulia ma nel Tre Veneto non c'è un incrocio che ha avuto incidenti quanti quel bivio. Purtroppo questo stop evidentemente non si vede, non è facilmente individuato e succedono cose veramente, per fortuna questa ultima è andata bene. È incomprensibile, io ho fatto un'interrogazione anche in Consiglio regionale, peccato che l'ho fatta, mi sembra che era luglio e aspetto ancora la risposta, adesso fra poco farò una, ieri, un'interrogazione urgente perché non è possibile, facciamo sempre queste comparazioni, non è possibile che da un Falcone per esempio a Manzano ci siano 32 rotonde e nella provincia di Trieste non si è fatta nessuna, questo è assolutamente indispensabile. E' vero che fosse via Flavio? Sì, ecco via Flavio, noi come provincia all'ultimo momento abbiamo fatto quella dell'Iospo, ma da parte di Friuli e Muzione Giulia Strade purtroppo la regione si è dimenticata in questi ultimi anni di questo assolutamente imprescindibile aspetto della viabilità. Non parliamo poi dell'ingresso di Duino da parte da Monfalcone, anche lì un incrocio stranissimo con questo dosso che è pericolosissimo, ricordiamoci qualche anno fa autobus e Corriera che si sono scontrati, è assolutamente indispensabile. Io mi auguro che prima di lasciare questo momento così un po' per noi non molto edificante della regione pensino anche a fare qualcosa nella nostra provincia. Senti, per i ciclisti si può pensare, visto che lì comunque l'area è larga, di creare una sorta di mini blocco ciclabile, non dico la pista ciclabile, ma almeno in questi punti un po' più sensibili? Certamente, è previsto nel piano regolatore, è previsto nel progetto della provincia la pista ciclabile dall'inizio del comune, da San Giovanni di Duino, fino a poi raggiungere il Carso e le varie località anche della Sovenia che invece si stanno già attrezzando. C'erano dei progetti, mi ricordo alcuni anni fa, proprio di un percorso fino a Capodistria, Isola, eccetera, eccetera. Diciamo che forse, mi auguro, visto che adesso stiamo mettendo le fognature di quel progetto previsto per portare le fognature dal villaggio del pescatore San Giovanni di Duino, Duino, Sistiana, portarle a Trieste per un unico depuratore, visto che si sta scavando e si sta preparando il sito per questo importantissimo lavoro, spero che non lo chiudano in maniera così brutta, ma in una maniera con ghiagietta, qualcosa che si può almeno dare un inizio di parvenza di pista ciclabile. È prevista dal piano lavoratore, è prevista dai progetti della provincia, c'erano anche dei finanziamenti comunitari che si possono rinnovare, mi auguro che non perderemo questa occasione. Senti, in 30 secondi per venirti a trovare qui, chilometri e chilometri di fila, per un semaforo che per l'amore di Dio bisogna fare dei lavori in centro, a Duino, tutto quanto, però un semaforo che ancora un po' sono tutti e tre più rossi che verdi, come hanno gestito Fugistrade e poi tecnici del comune questa situazione? Perché non è possibile che noi abbiamo una viabilità dove tantissima gente viene, sono chilometri, cioè è da dire tantissimo lo sbaraglio. Il problema è enorme, io mi sono occupato anche così a titolo un po' personale. Anche perché ti arrivi qua a casa? Chiaro, oggi ancora va bene, venerdì sera sono stato anche io un'ora da Sistiana a venire a Duino per fare due chilometri. Diciamo che sono due cose, una che manca la segnalazione prima di Sistiana che chi va a Mufalcone faccia il giro per l'autostrada, che tra l'altro è gratuita, perciò alleggererebbe molto. Certamente questo dimostra che questo incrocio dell'uscita a Duino verso Mufalcone è un incrocio che è difficilissimo, è quasi impossibile gestirlo in un modo reale con un semafero, perché ci sono delle uscite laterali, c'è un movimento di entrata e uscita in versione a U, è veramente difficilissimo. Io ho parlato spesso con i tecnici e loro hanno detto ma che incrocio è questo? Ecco, questa è la dimostrazione che al di là della variazione di questo semafero, ma mi auguro che verrà presto tolto perché il lavoro di a Duino sulla strada... Sì, ma bastare avranno due insegne. Ecco, penso che questi giorni ci è stato veramente un disagio talmente grande e che mi auguro che i tecnici ci pensino velocemente sia a chiudere... ma semplicemente a chiudere questo lavoro di Duino che non è immenso, ma soprattutto cercare di ripristinare la viabilità nei giorni festivi, sabato e domenica.